la nostra storia dal principio alla fine e oltre ma questo almeno oggi è impossibile se però alle stesse domande ci rispondessimo con la fede avremmo da subito ogni certezza ecco affrontare liberamente questo dilemma vivere questo mistero in un atteggiamento fiducioso incerto o incredulo e quindi accettandone tutti i rischi è il senso di un'inchiesta che attraverserà la nostra vita nel segno appunto della fede e della ragione credere non credere di sergio zavoli venerdì 27 ottobre 20 e 40 rai 1 grazie